Contatto ieri tra il ministro della difesa americana Austin e il suo omologo russo Shoigu per un rapido cessate il fuoco in Ucraina. Si tratta della prima telefonata dall'inizio della guerra. Dalla Turchia intanto arriva un secco no all'ingresso nella Nato di Finlandia e Svezia. Secondo Erdogan i paesi nordici ospitano i terroristi della PKK. Il presidente dell'Ucraina Zelensky annuncia che oltre 1100 insediamenti sono stati liberati dall'inizio dell'invasione russa. Preoccupa però la situazione all'interno dell'acciaieria Azovstal dove si tratta per l'evacuazione. Una trattativa molto complessa. Mosca si ritira a Kharkiv ma avanza nei territori della Donbass. Presidente della Lombardia Tiglio Fontana è stato prosciolto da giudice per le indagini preliminari di Milano perché l'ha fatto non sussiste sul caso Camici. L'inchiesta riguardava l'acquisto senza gara di dispositivi di protezione individuale in piena emergenza Covid da parte della regione Lombarda da una società di proprietà del coniato di Fontana. Sono quattro oggi gli anticipi della 37esima giornata di campionato. Si lotta per la salvezza. La Salernitana farà visita all'Empoli. Lo spezia in casa dell'Udinese mentre il Venezia sarà di scena all'Olimpico contro la Roma. Verona Torino l'altra sfida del sabato. Domani in campo le due milanesi. Buongiorno di nuovo e benvenuti alla prima edizione Tg la 7. Dunque ieri è stata una giornata importante non tanto per i risultati ottenuti, giornata importante sul piano diplomatico ma quanto soprattutto perché si è ripristinato il contatto fra Stati Uniti e Russia. Le due superpotenze non interloquivano ormai dallo scorso 18 febbraio. Per quanto riguarda poi l'ingresso nella Nato di Finlandia e Svezia da registrare il parere contrario del presidente turco Erdogan. E' andata in archivi un'altra giornata interlocutoria per la crisi ucraina. Russi e americani si sono ufficialmente riparlati. L'ultima volta risaliva il 18 febbraio. Il capo del Pentagono Austin e il ministro della difesa russo Shoigu non hanno raggiunto risultati di alcun rilevo. Washington ha ribadito la richiesta di un cessato del fuoco a cui Mosca praticamente non ha risposto. Il canale di comunicazione dovrebbe comunque restare aperto. Mosca ha attaccato nuovamente l'Unione Europea, definita attore aggressivo e militante con ambizioni extraeuropee. Il Cremlino ha ribadito il suo no all'ingresso di Kiev nell'Unione Europea e Putin al telefono con il cancelliere tedesco Scholz ha ripetuto che lo stallo della trattativa è colpa esclusiva di Kiev. L'Unione ribadisce il suo appoggio a Zelensky ma torna a spingere per un percorso diplomatico che non faccia allungare il conflitto e in ogni caso annuncia altri 500 milioni di euro in aiuti militari all'Ucraina invasa. In serata sulla 7 intervista Irina Vereshuk, vicepremier di Kiev che ripete si ha negoziati ma solo dopo il ritiro dei russi nessun riconoscimento della Crimea russa. Tutti i russi e non solo Putin sono colpevoli per la guerra. Putin che non si fermerà e che può essere fermato solo con le armi e l'appoggio occidentale per sconfiggerlo. L'Ucraina dice è pronta ad armare un migliore di persone. I ministri degli esteri del G7 si sono incontrati in Germania. L'Ucraina ha chiesto loro il sequestro degli asset economici e finanziari di Mosca per riconvertirli nella ricostruzione post bellica. A breve i paesi del G7 garantiranno aiuti a Kiev per altri 30 miliardi di euro affrontato anche lo scoglio delle guerre energetiche e alimentare. La partita diplomatica resta aperta anche sul fronte ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato a cui si è detta contraria la Turchia. Erdogan teme che i paesi scandinavi diventino luoghi ospitali per gruppi terroristici. L'argomento, dice la Casa Bianca, verrà discusso in un summit della Nato previsto nel fine settimana. Sempre da Ankara il portavoce di Erdogan afferma sappiamo con certezza che Putin vuole un tavolo negoziale a cui siano seduti con la Russia, l'Ucraina e i paesi occidentali inclusi gli Stati Uniti. Questo nelle intenzioni per mettere nero su bianco un nuovo grande accordo che permetta di raggiungere una posizione comune e costruttiva. Parole a oggi difficili da tradurre in realtà. Per chiudere, secondo il capo dei servizi segreti ucraini Budanov, Putin avrebbe il cancro e a Mosca è già in corso un golpe per destituirlo. Non è la prima volta che questa voce esce dalla Russia. Budanov lo ha detto a Sky News Britannica sostenendo che ad agosto la guerra vivrà un momento risvolta per concludersi poi entro la fine del 2022. Entrando più strettamente nella questione campo, nella zona dell'isola dei serpenti, in prossimità del confine tra Romania e Ucraina, l'esercito di Kiev avrebbe colpito per la terza volta una nave russa. L'annuncio è stato diffuso via Twitter e nessuna conferma invece è arrivata da Mosca. L'annuncio è arrivato via Twitter. Grazie all'azione dei nostri militari un'altra nave russa è stata colpita. L'ha scritto Sergei Bratschuk, portavoce delle operazioni della regione sud e di Odessa. Per la marina russa, che non conferma, sarebbe un altro colpo dopo l'affondamento della Moskva e il danneggiamento della Saratov avvenuto durante i primi giorni del conflitto. La nave si trovava nella zona dell'isola dei serpenti, piccolo lembo di terra a largo della zona di confine tra Romania e Ucraina, sempre più strategico per il controllo del Mar Nero e dove ora si sta combattendo una battaglia a colpi di droni e di aerei. Per i russi, che fin dal primo giorno hanno arrestato e portato via la guarnigione di Kiev per installarsi sull'isola, tenere quel lembo di terra appare però sempre più difficile. Le foto satellitari mostrano come i droni forniti dalla Turchia colpiscano regolarmente le chiatte, le motovedette, i pezzi d'artiglieria. Sarebbe toccato all'Avzevolod Bobrov, nave appoggio di recente costruzione che sarebbe stata danneggiata dal fuoco ucraino. I portavoce dell'esercito di Kiev continuano però a mettere in guardia Odessa e la sua regione. I russi si stanno spostando verso l'isola dei serpenti ma a largo restano quattro navi e due sottomarini con un totale di 30 missili caliber. Un nuovo appello a far ripartire quelle navi cariche di grano e altri cereali è arrivato dal ministro degli esteri Kuleba. Si è rivolto ai paesi di Africa e Asia chiedendo loro di fare pressioni su Putin affinché sblocchi i porti consentendo la consegna del grano ed evitando così una grave crisi alimentare. Nella notte è arrivato il consueto discorso di Volodymyr Zelensky che ha voluto sottolineare come ad oggi. Insomma 1.115 insediamenti sono stati liberati dagli occupanti russi. 37 ambasciate straniere hanno riaperto a Kiev. Poi Zelensky ha toccato un argomento che è molto sentito in Ucraina, quello della situazione dei militari asserragliati nelle acciaglierie di Azovstal. Si tratta, è una trattativa difficile, è una trattativa complicata, si cerca di trovare una soluzione ma insomma è, come dicevamo, una vicenda molto molto avvertita, molto molto partecipata in tutto il paese. All'ottantesimo giorno dall'invasione russa il conflitto ucraino ruota ancora intorno all'assedio dell'acciaieria Azovstal. Kiev annuncia la riconquista sul campo di decine di insediamenti. Per Mosca si tratta invece dell'effetto del ripiegamento delle sue forze verso sud per consolidare Donbass e Crimea. E cruciale resta appunto la vicenda del gigantesco impianto siderurgico di Mariupol nei cui sotterranei sono intrappolati i militari del battaglione Azov e secondo fonti russe anche personale tecnico militare occidentale operante nei laboratori chimici segreti ucraini finanziati dagli Stati Uniti. Lo stallo nella trattativa per la liberazione dei soldati comincia a provocare in Ucraina un crescente malumore. I colloqui con la Russia per far uscire i difensori feriti dallo stabilimento sono stati molto complessi. Ci stiamo avvalendo degli intermediari più influenti, ha dichiarato il presidente Zelensky nel suo ultimo messaggio video trasmesso nella notte. Le forze russe bombardano costantemente la città. Stiamo facendo di tutto per accelerare la prossima fase della missione di evacuazione e ricoverare i feriti gravi. Ma, chiarisce il presidente ucraino, nessuno può dire al momento quanto durerà la guerra e molto dipende dai nostri partner europei e del resto dell'Occidente. Zelensky ha avvertito anche che la guerra e il blocco russo dei porti ucraini possono provocare una crescente crisi alimentare su larga scala. I russi, ha detto, stanno minacciando apertamente il mondo con una possibile carestia in decine di paesi in grado di innescare instabilità politica e flussi migratori epocali. Sul fronte delle sanzioni, gli Stati Uniti hanno anticipato probabili estensioni delle misure alle banche straniere che aiutano la Russia. Chi fornisce supporto materiale a un'entità sanzionata sarà in sostanza colpito dai provvedimenti decisi, di volta in volta da Washington e dai paesi alleati. A Kiev, intanto, si apre il primo processo per crimini di guerra a carico di un soldato russo. Il 21enne è accusato di aver ucciso un civile ucraino disarmato nella regione di Sumi. Allora, come abbiamo sentito in precedenza, c'è il parere contrario di Erdogan, dal presidente turco, all'ingresso di Finlandia e Svezia nel nanato, nel patto atlantico. In Italia si è espresso invece positivamente riguardo questa eventualità il leader dei Cinque Stelle, Giuseppe Conte, sulla stessa linea il ministro degli Esteri Di Maio, scettico invece il ministro leghista Giorgetti che ha affermato nuovi ingressi nella Nato allungano i tempi della guerra. Nel mondo politico italiano il dibattito continua a ruotare attorno alla guerra in Ucraina e ai suoi effetti. Tra i più recenti la storica decisione della Finlandia di abbandonare la sua consolidata neutralità e chiedere l'adesione alla Nato. Per il Movimento 5 Stelle si tratta di una scelta fondata. Infatti Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza con la stampa estera a Roma, dice «Bisogna essere molto comprensivi, ragionando di Finlandia. La loro richiesta va capita e valutata con attenzione. Credo sia comprensibile che voglia sentirsi rassicurata dall'adesione alla Nato. È chiaro che può avere delle implicazioni, aggiunge, ma non mi sento di offrire una risposta negativa di fronte ad un interesse così vitale espresso dalla Finlandia». Ancora più deciso, però, è il sì del ministro degli Esteri Luigi Di Maio che spiega l'Italia sostiene con forza l'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato. Siamo ben lieti di accoglierli nell'alleanza, un'alleanza che ha garantito la pace per decenni. Più prudente, invece, è la posizione della Lega. Il ministro Giorgetti avverte «non è con nuovi ingressi nella Nato che si accorcia la guerra». Nelle parole dei vari leader pesa anche il clima politico che risente per la voto amministrativo di giugno che si avvicina e che metterà alla prova alleanze ed equilibri interni alle singole forze politiche, come tra PD e 5 Stelle. E Conte spiega «le divergenze con il PD sono sulle armi, sulla guerra in Ucraina e non solo», e poi puntualizza «attenzione, non abbiamo sottoscritto un documento che ci vincola e ci blinda in un'alleanza con il PD. È un percorso di dialogo e valutiamo di volta in volta. L'attenzione ora si concentra sul question time che terrà Draghi in Parlamento il 19 maggio, nel corso del quale parlerà del conflitto e non solo. Infatti, tensioni all'interno della maggioranza si registrano anche su alcuni provvedimenti relativi al piano di ripresa e resilienza, come la riforma dei meccanismi di elezione del prossimo Consiglio Superiore della Magistratura, il disegno di legge sulla concorrenza, su salario minimo, transizione ecologica e fine vita». Cambiamo argomento perché il Presidente della Lombardia, Attilio Fontana, è stato prosciolto per il caso Camici, in quanto il fatto non sussiste. L'inchiesta riguardava l'acquisto senza gara di dispositivi di protezione individuale in piena emergenza Covid, che erano stati acquistati dalla Regione Lombardia da una società di proprietà del cognato del Presidente della Regione. Niente processo per il Governatore della Lombardia, Attilio Fontana, e gli altri quattro imputati per frode in pubbliche forniture nel cosiddetto caso dei camici. Per quel contratto senza gara, stipulato in piena emergenza Covid dall'allora Centrale Acquisti della Regione Lombardia-Aria, è trasformato poi in donazione con la società Dama S.P.A. di Andrea Dini, cognato del Governatore Fontana. La Procura di Milano aveva chiesto il processo anche per Dini, Filippo Bongiovanni, ex direttore generale di Aria, Carmen Schweigl, responsabile ufficio gare, e Pier Attilio Superti, vice segretario generale della Regione. Era palese la buona fete di tutti in questa storia, quell'indagine era un grosso errore, ha dichiarato l'avvocato di Fontana, Jacopo Penza. I miei comportamenti vanno riferiti alla drammaticità del momento, tutto quello che ho fatto l'ho fatto per trovare una soluzione per i miei cittadini, ha detto ieri sera Fontana in conferenza stampa. Il contratto al centro della vicenda, chiuso il 16 aprile 2020, assicurava la fornitura di 75 mila dispositivi di protezione, tra cui molti camici, per un valore di 513 mila euro, ma secondo la Procura rappresentava sia un conflitto di interessi per il coinvolgimento del cognato di Fontana, sia una frode perché 25 mila camici dei 75 mila ordinati non furono mai consegnati dopo che la vendita fu convertita in donazione dallo stesso Governatore. che dette di tasca sua la cifra appattuita al cognato. Banca Italia segnalò quell'operazione perché i soldi arrivavano da un conto svizzero di Fontana. La Procura di Milano ha preso questo passaggio un'altra inchiesta, archiviata poi a febbraio dal giudice. Con la sentenza di ieri si ricompatta il centrodestra Lombardo, aprendo la strada una ricandidatura di Fontana che attendeva proprio questo passaggio giudiziario per prendere una decisione, ma a domanda diretta il Governatore non ha voluto rispondere. E a proposito di Covid, il quadro pandemico continua a migliorare nel nostro Paese che però sposa la linea della prudenza in Italia, infatti resta l'obbligo dell'uso della mascherina sui voli aerei anche dopo il 16 maggio. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, dispone l'uso del dispositivo di protezione fino al 16 giugno in controtendenza con il resto dei Paesi dell'Unione Europea che prevedono la fine dell'obbligo che resta però raccomandata sui voli aerei da lunedì. I dati delle ultime 24 ore confermano il miglioramento, sono poco più di 38.500 i nuovi contagi con il tasso di positività stabile al 14,5% seppure in calo. Resta alto il numero delle vittime che ieri purtroppo sono state 115. Spostiamoci all'estero di nuovo, duro attacco della polizia israeliana. Ieri a Gerusalemme Est, in occasione dei funerali di Shiren Abu Akleh, la giornalista di Al Jazeera, uccisa tre giorni fa a Jenin. Gli agenti hanno fatto uso di manganelli per disperdere il corteo che accompagnava la bara. Manganellate cariche della polizia israeliana, ieri ai funerali di Shiren Abu Akleh, la giornalista di Al Jazeera, uccisa ad un attimo scontro a fuoco tre giorni fa nel campo profughi di Jenin. Affare da innesco agli scontri sarebbero state le bandiere palestinesi portate da Chitenevel Fertro della cronista, uomini colpiti ripetutamente dagli agenti israeliani poco prima dell'ingresso nella chiesa greco Melchita vicino alla porta di Jaffa a Gerusalemme Est. Lunghi momenti di tensione ripresi da tante telecamere con la bara della giornalista che ha undeggiato e rischiato di cadere a terra durante gli attacchi degli agenti. Migliaia i palestinesi che hanno voluto in ogni caso assistere alla funzione che si è svolta poi senza altre particolari tensioni, mentre proseguono le indagini sulla morte di Shiren Abu Akleh per capire chi l'abbia uccisa e perché. Per i palestinesi non ci sono dubbi, si è trattato di un omicidio a sangue freddo. La cronista stava infatti documentando un'operazione militare israeliana, sono loro ad aver fatto fuoco. Meno certezze invece arrivano dall'altra parte con Israele che parla di ulteriori indagini e della necessità di rilievi balistici per comprendere le cause della sua morte. Secondo gli inquirenti israeliani sarebbero due le principali opzioni in campo. Il fuoco massiccio incontrollato da parte di miliziani palestinesi che sparavano verso veicoli militari israeliani in transito o gli spari da parte di un militare israeliano che avrebbe cercato di uccidere un terrorista, sbagliando però obiettivo. La pagina sportiva perché oggi si giocano quattro anticipi della penultima giornata del campionato di Serie A, tre dei quali sono importanti per la lotta per non retrocedere. Poi domani scendono in campo anche le due milanesi e lì il discorso è legato alla conquista del titolo. Adesso ci siamo per davvero. Entro domani sera la sfida scudetto fra le milanesi, divise da due sole lunghezze, affronta una possibile svolta. Ma di certo che già da questo pomeriggio la tensione sarà ai livelli di guardia. Alle 15 con 6.000 tifosi granata sugli spalti la Salernitana va in casa dell'Empoli a caccia di punti vitali per la permanenza del massimo campionato. L'entusiasmo non manca per la formazione campana ma vincere è fondamentale pure per la squadra toscana nonostante i sette punti di margine sui rivali. È una trasferta ricca di incognite anche quella udine dello Spezia impegnatissimo nella volata salvezza insieme alla squadra di Davide Nicola, Caglia di Genoa e Venezia. Propri lagunari saranno protagonisti del posticipo serale con la Roma preceduto alle ore 18 da Verona-Torino. In previsione della ultima partita interna Mourinho non ha perso l'occasione per l'ennesima stilettata verso gli arbitri. Siamo un po' stanchi di arbitri nel VAR di avere problemi dopo la nostra gara, puniti senza poter lavorare 3, 4, 5 settimane come è successo spesso. E a proposito di polemiche il Napoli giocherà soltanto domani pomeriggio ma Spalletti ha anticipato la conferenza togliendosi un bel po' di sassolini dalle scarpe. E in certi momenti mi sembrava, anche dopo aver iniziato, di essere il solo a credere in questo Napoli. Oggi che siamo tornati in Champions League c'è addirittura il rammarico di non aver combattuto fino in fondo alla vittoria del campionato. E sul suo futuro, nonostante la maretta degli ultimi giorni, parole chiarissime. Rimango a Napoli, non ho dubbi. E allora, parliamo adesso di tennis perché agli Open del Foro Italico, un'altra eliminazione amara per Yannick Sinner provocata anche da un problema fisico. Nel quartifinale contro il greco Tsitsipas, il giocatore alto attesino, ha accusato un forte dolore all'anca sinistra. Sinner aveva perso il primo set, soltanto al tie-break, giocando alla pari con il numero quattro della classifica ATP. Poi un netto calo della sua performance causato dall'infortunio. 6-2 il risultato della seconda partita. Le semifinali saranno quindi Tsitsipas, Zverev e Djokovic, Rood. L'Italia si consola con Fognini e Bolelli che si sono qualificati per la semifinale del torneo di doppio. Allora siamo arrivati alla fine, alla fine io vi ricordo che oggi il dibattito di Omnibus è condotto anche oggi da Andrea Pennacchioli, tra i suoi ospiti ci sono anche Riccardo Maggi, Agnese Pini, Luigi De Magistris e poi torna Coffee Break con Andrea Pancani, Walter Verini, Michele Ainis, Alessandra Maddalena e Roberto Calderoli, gli ospiti di Andrea Pancani. Io mi fermo qui, vi ricordo la prossima edizione del Tg è alle 13.30 e immediatamente dopo torna Paolo Sottocorona con il secondo appuntamento con le previsioni del meteo. Grazie e buona giornata.